cari amici giornata fredda ma nonostante tutto ancora qualcosa c'è oggi è 19 ottobre ah c'è il primo allora uno andiamo che vi porto dal secondo e due ok ancora uno ok bello 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 ancora 4 una e due li puoi togliere con l'ianto qua c'è il terzo e qua c'è il quarto vai antonio bello l'inverno antonio ne ha trovato un altro bello vai bella patata ah sono due cercavamo il fratello e io ne ho trovati altri 4 adesso ve li faccio vedere allora guarda questo bello poi due non gli voglio fare la foto a quello due vediamo se mi ricordo dove erano gli altri qui ecco 3 e 4 ok ancora uno piccolo un bocciolino ragazzi per ora la qualità è ottima che con sta temperatura più freschetta si mantengono bene guardate questo che strana forma sta già dal contrario bel patatone anche questo 1 1 e 2 ancora uno piccolino si voleva nascondere ok non è bello come gli altri ma un bel porcino anche questo dai comunque passando do un'occhiata verso tu e per sbaglio ne vedo due poi vedo il terzo e poi anche il quarto ora ci basti che bello sotto le foglie allora primo che è l'ultimo che avevo visto era il più vicino a me dell'ultimo che ho visto 1 2 è il più grande di tutti il papà 3 e 4 e 4 ok voi riuscite a vederlo? penso proprio di no voleva giocare a nascondino con Antonio eccolo la un'altra piccola bombetta ok qui ne abbiamo trovato i tre chissà c'è il quarto guardate questo nero questo splendido eirus bello bello davvero due boccioli due boccioli uno e due ok ok allora Antonio ha trovato due neri spettacolari uno vai vai bellissimo andiamo all'altro e andiamo a vedere il secondo qua c'è il secondo questo è un vero bronzino bello e qua c'è il terzo quello che ho trovato piccolino io un edulis un piccolo edulis ok un bocciolo qui un altro nero ok ok è qui è il il è il il il